Lo hanno fermato sull'autobus che utilizzava per spostarsi e consegnare ruina. Così un giovane nigeriano è stato arrestato dalla polizia di Pesaro per spaccio di droga. La squadra mobile della questura stava seguendo da tempo l'uomo con precedenti penali che aiutava un connazionale nella gestione di un negozio di prodotti etnici situato nel centro storico. I poliziotti della sezione antidroga hanno deciso di salire sul bus e poi, senza farlo insospettire, hanno controllato i suoi movimenti. Infatti è ormai noto agli investigatori che spesso gli spacciatori e in particolare quelli di origine nigeriana sono soliti nascondere le dosi di ruina nella bocca e per questo vengono avvolte in ulteriori strati di cello, fane carta assorbente allo scopo di sigillarle ermeticamente e di poterle ingerire nel caso venissero intercettati dalle forze dell'ordine senza rischiare che si aprano all'interno dello stomaco. Un evento che potrebbe comportare gravi lesioni se non addirittura la morte. Una volta individuato il giovane, seduto a metà pullman, uno degli agenti si è avvicinato e si è qualificato. Realizzato di essere stato scoperto, l'uomo si è rigidito, dando l'impressione che avesse effettivamente qualcosa in bocca e che stesse per inghiottirla. I poliziotti così, anche per tutelare la sua incolumità, lo hanno bloccato e compiuto alcune manovre per indurlo e spellere quanto teneva nel cavo orale, cioè 12 palline contenenti eroina per il peso complessivo di 11 grammi. Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare altre 27 dosi nascoste nella casa dello straniero all'interno di uno stereo, più 6 palline occultate nel negozio dell'amico. Inoltre, gli agenti hanno trovato tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e 350 euro ritenuti provento dello spaccio. Al termine delle operazioni eseguite nel negozio è stato richiesto l'intervento di vigili urbani che dopo i controlli hanno chiuso l'esercizio per 5 giorni per la violazione delle norme anti-covid. Infine, viste le irregolarità di tipo sanitario, sono stati chiamati gli operatori dell'Asur che hanno sequestrato due congelatori per verificare le modalità di conservazione e la provenienza dei prodotti alimentari. Inoltre, gli agenti sono stati chiamati gli operatori dell'Asur